Nel fine settimana sulla regione non avremo perturbazioni ma ci saranno delle correnti occidentali in quota che manterranno una certa instabilità soprattutto sui monti e nel pomeriggio nelle ore più calde della giornata. Quindi sia per sabato che domenica prevalenza di bel tempo con cielo sereno al mattino su tutte le zone, poi in giornata sui monti sviluppo di nubi che nel pomeriggio e in serata potranno dare qualche rovescio, qualche isolato temporale. È possibile che qualche temporale interessi localmente anche le zone di pianura ma la possibilità è piuttosto ridotta. Temperature massime in pianura sui 32 gradi quindi piuttosto caldo di pomeriggio. Sulla costa invece i venti di brezza del pomeriggio manterranno le temperature al di sotto di tale valore per cui massime intorno 28 gradi sono più probabili. Minime di 22-23 gradi sulla costa 18-19 per quanto riguarda la pianura. Per l'inizio della prossima settimana un peggioramento con rovesci temporali molto probabili nella giornata di lunedì specialmente verso sera e piuttosto diffusi. È possibile anche che vi sia qualche temporale forte. La prossima settimana comunque il tempo sarà piuttosto incerto come è stato nei giorni passati. Dall'osservatorio Meta dell'ARPA un saluto da Marcellino Salvador.